Lady Gaga contro Madonna, certe cose vanno dette in faccia Sembra una battaglia in pari, quella tra Madonna e Lady Gaga. O così sembrava allinizio, con il tempo e i suoi successi discografici da 30 milioni di copie vendute in pochi anni, Stefani Gioanne Germanotta si è fatta strada nel mondo del pop mainstream e si è guadagnata il suo diritto di replica alla dea del pop, Nostra Signora della Musica Dance, Madonna. Madonna. E questo è solo lultimo capitolo di una battaglia che va avanti da molto, molto tempo. Lady Gaga contro Madonna, sempre meglio, o peggio? Correva lanno 2012 quando Madonna ebbe la tragica idea di criticare la musica di Lady Gaga, definendola riduttiva. . Squillino le trombe, precipitino i fulmini, cadano i meteoriti, da quel momento ebbe inizio una sanguinosa faida di frecciate più o meno dirette che, a conti fatti, potrebbe essere leggermente sfuggita di mano a entrambe. . Ma è bello così, trovarsi un rivale e lasciarsi trasportare dalla competizione. Nel suo ultimo documentario, Fivefotwo, Lady Gaga affronta per la prima volta, o quasi, lannosa questione della sua diatriba con Madonna, lasciando tutti col fiato sospeso. . E la pop star, che di recente ha annullato le date europee del Johanne World Tour, non le ha certo mandate a dire, vorrei che la regina del pop venisse direttamente da me a dirmi che sono una faccia di M.A., piuttosto che insultarla in televisione. . Lady Gaga, 31 anni, sfida dunque a Singular Tenzone la 59enne Madonna, che di recente si è trasferita in Portogallo per seguire le velleità calcistiche del figlio. Lidea dietro la dichiarazione, fatta in una pellicola per il piccolo schermo, è quella di intimare a Madonna di smettere di insultarla dietro al piccolo schermo. Pensate che qualcosa non torni? Non siete gli unici. . Lady Gaga vs Madonna, chi ha iniziato? La questione con Madonna è che io, per esempio, lavevo sempre adorata e la ammiro nonostante tutto. Nonostante quello che pensa di me, spiega Lady Gaga, cercando di scaricare tutta la colpa su Madonna e, in qualche modo, facendo esattamente il gioco opposto, lunica cosa che mi dà fastidio è che io sono fatta così, sono una ragazza italiana nata e cresciuta a New York, se ho un problema, te lo vengo a dire in faccia. . Ed ecco che arriva la stoccata finale, che la trasforma in bad girl sul piede di guerra, finalmente, ma non importa quanto rispetto io nutra per lei come artista, non riesco proprio a capire perché non mi guarda negli occhi e non mi dice che il mio stile è riduttivo e non niente, lo ho dovuto sentire in televisione. . Se mi devi dire che faccio schifo attraverso la televisione è come quando a scuola ci passavamo i bigliettini, e vieni a scoprire dallamico che quellaltro ragazzo prova qualcosa per te. . E dire che era cominciato tutto sotto i migliori auspici quando, nel lontano 2006, le due si erano recate a bracetto alla sfilata di Marc Jacobs. . .